Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi finalmente dopo un bel po' di tempo siamo ritornati qui in questo nuovo video Raga, è un video molto breve perché vi parlerò di una cosa davvero importante che sto cercando per migliorare il canale e riniziare definitivamente con i video Adesso arriva l'estate, c'è più tempo e soprattutto devo trovare più ispirazione Quindi ho deciso di portare diversi cambiamenti al canale Come avete visto raga, sto cercando un grafico che possa costruirmi, tra virgolette, più che altro crearmi un'ottima grafica e un ottimo logo per il canale Perché ragazzi, i loghi presi su internet mi hanno un po' stufato, con le miniature bene o male me la cavo, qualche template, qualche effetto che prendo da internet Più o meno ce la faccio, diciamo così Però riguardo al logo e alla grafica vorrei chiedere molto aiuto ad un grafico esperto raga Io non è per sfiduciarvi, però se siete dei grafici diciamo nuovi nel settore, tra virgolette Vi invito a contattare magari un vostro amico più bravo Perché dico questo? Voglio dei lavoretti a gratis Cioè, perdonatemi, permettetemi, lo sto facendo diversi lavoretti anche vicino al pc Perché ho avuto dei problemi e anche per questo che sono mancato con i video Però è tutto risolto, non vi preoccupate Sto cercando un grafico proprio a gratis, tra virgolette, che ovviamente ringrazierò in un video Mi può creare un logo e una nuova grafica per il canale Giusto per iniziare, scusate la botta al microfono Giusto per iniziare nuovamente a piede libero Quindi raga, il logo, vabbè, anche la grafica deve essere sempre basata su un lupo Oppure sul 17, che sapete che è il mio numero simbolo e significa tanto per me La stessa cosa per il lupo, sapete che è il mio animale preferito e anche esso simbola tanto per me Non so che cacchio vuol dire simbola, però lasciamo stare Detto questo ragazzi, questo è semplicemente un video annuncio Non so in quanti riguarderete, condividetelo perché sono in cerca appunto di questo grafico Mi raccomando, lasciate comunque like Commentate il video, ma condividetelo per far arrivare a tutti i grafici di questo mondo Sono disposti a fare un lavoretto gratis perché molti ne approfittano e vogliono i big money Cosa che non sono disposto a fare In caso che anche voi, dai iscritti, diciamo, vogliate crearmi una grafica o qualcosa, un logo Giusto per avere un'idea, raga, contattatemi con un messaggio privato su YouTube In modo che vi possa rispondere oppure venite sul TS che trovate in descrizione Che è appunto il test di MidiCatch Mi dite, Luke, questo è quello che ti ho fatto io Vedi se ti può piacere, raga Ovviamente se non accetterò i vostri design non vi sentite offesi Perché comunque cerco qualcosa di davvero particolare Che possa finalmente contraddistinguere il mio canale Detto questo ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto Come detto prima, like, commento, condividetelo, iscrivetevi al canale E ci becchiamo alla prossima Ciao a tutti ragazzi